Allora, prestazione sicuramente perfetta, insomma, non subire gol e far giocare anche un po' tutti e ci sono state anche delle assenze, non ci scordiamo quest'oggi da parte del Checco Ennesia prestazione che poi introduce a una settimana molto importante Beh, lo sappiamo che il Cotton è una grandissima squadra sono bravi, siamo negli stessi punti, cercheranno di vincere ci hanno messo molto in difficoltà la partita dell'andata hanno continuato un cammino, secondo me, molto importante hanno avuto qualche battuta del resto, ma nel campionato c'è stato noi all'inizio abbiamo fatto cinque parigi di seguito quindi penso che sia veramente una gran bella partita L'andata fu una partita molto interessante che poi non si ruppe negli equilibri visto che il risultato favorì un po' tutte e due le squadre ecco, questa partita può essere più che mai per voi al momento la partita, tra virgolette, dell'anno oppure no? No, assolutamente no perché ci stanno anche altre squadre il campionato quest'anno si è molto livellato noi andiamo avanti di prestazione e prestazione lo dicevo quando facevamo cinque pareggi di seguito che la squadra non riusciva a vincere e lo dico ancora adesso che abbiamo risalito bene la classifica Parliamo di una situazione che è successa che ha coinvolto anche il Checco e la Lega e la M-Servizi la scorsa settimana ecco, il vostro punto di vista per chiudere un po' quella che è una situazione che si è creata tra questi tre elementi della Lega Beh, io due cose devo dire prima voglio ringraziare tutti i presidenti di tutte le altre squadre che hanno dimostrato veramente cosa significa questo sport la realtà del Checco e lo scapitollo che ha dimostrato in questi cinque anni che ha sempre giocato ha sempre applaudito non è stato mai fatto un accenno di vista tranne che con loro loro l'altro anno alla semifinale dopo che hanno perso 4 a 1 ci hanno minacciato, ci hanno insultato hanno detto, dicevano i loro giocatori spezzatevi le gambe entratevi per fargli male hanno spulso l'uomo e l'allenatore l'ha fatto entrare senza che l'albero si non accorcesse quindi hanno continuato la partita di notte questo non è sport e poi sono molto deluso sinceramente dal presidente perché il presidente erano molto amici con mio padre e il padre eravamo amici anche noi e qualche cosa la doveva dire invece lui non ha detto niente e questo che scapitollo con tutta la famiglia è molto dispiaciuto perché si è rotto un rapporto d'amicizia che durava penso da più di 30 anni Villari purtroppo conosciamo tutti quindi un commento su di lui grazie